Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della pianta acquatica rotala. La rotala deriva dalla famiglia Lelitraceae e ha origine in natura nel sud-est asiatico. È una pianta dallo stelo molto lungo e spesso viene usata per il terzo piano e sicuramente amatissima da ogni aquascaper perché è una pianta spesso di facile coltivazione. Ovviamente ha bisogno di grandi nutrienti per la sua crescita molto veloce. Adesso andiamo a vedere le varietà di rotala più diffuse. Rotala rotundifoglia. È originaria del sud-est asiatico, Cina, Myanmar, Vietnam e Giappone. Ha una crescita molto veloce e il colore rossastro-arancione che assume con la presenza di luce o verde se la luce è poca, dà un bel contrasto con i verdi delle altre piante. Il nome latino significa dalle foglie rotonde e infatti la pianta cresciuta fuori dall'acqua, nelle culture idroponiche delle grandi aziende produttrici di piante d'acquario, ha delle belle foglioline tonde ma quando viene collocata in vasca, completamente sommersa, le nuove foglie che si sviluppano in acqua non sono assolutamente tonde ma sottili ed allungate anche 2-3 cm o più. Cresce molto rapidamente e richiede molta luce per mantenere il suo naturale colore rossastro, oltre a una discreta fertilizzazione con ferro. Si trova abbastanza frequentemente in commercio. Rotala tende a formare delle radici aeree che si aggrappano ad ogni cosa e si interrano con molta facilità e nel comportamento assomigliano quasi a degli stoloni perché ovviamente si incurvano e vanno a cercare il fertilizzante. È una pianta molto alta che può raggiungere quindi anche 50 cm nel vostro acquario ma ricordatevi che non deve essere piantata molto fitta perché altrimenti le foglie verso il basso avranno poca luce e tenderanno a ingiallire. Rotala indica Conosciuta come rotala bonsai è una piccolissima pianta adatta anche per nanoacquari. È una specie di difficoltà media che necessita di buona luce, fondo fertile, CO2 ed attenta fertilizzazione. Si coltiva in gruppi piantando gli steli molto ravvicinati. Con luce intensa gli apici diventano di un arancio molto intenso e le piante rimangono basse e compatte. Con luce meno intensa gli steli tendono ad allungarsi un po' di più rimanendo pressoché verdi. Rotala macrandra Tipologia di rotala parustre, comportamento prostrato e colorazione verde in emersione, ha un portamento eretto e colorazione dal marrone rosato al rosso arancio in sommersione. Foglie opposte, due per verticillo, che in sommersione si presentano con forma ovale, leggermente accuminata, con margine ondulato, nervatura pinnata e prive di picciolo. In sommersione i singoli fusti possono raggiungere 40-50 cm di altezza. Rotala vallichi La rotala vallichi è composta da un singolo stelo che, in forma sommersa, generalmente non ramifica, ma può arrivare fino a 40-50 cm di altezza. Si tratta di una pianta verticellata, ovvero con le foglie disposte tutto intorno al nodo, come i raggi di una bicicletta. Il nome rotala, assegnato dall'inneo a questo genere di piante, dirà proprio da questa caratteristica, comune a diverse specie. Questa disposizione riguarda sia la forma emersa che quella sommersa, ma l'aspetto generale è molto differente. Sott'acqua le foglie sono molto sottili e fitte, fino quasi a 15 per ogni verticillo. In emersione, invece, si allargano fino a 4-5 mm e si dispongono in forma ellittica, ma è difficile che ce ne siano più di 5 o 6 sullo stesso nodo. La pianta rotala si riproduce per talea, quindi si pota tagliando con un paio di forbici affilate la porzione superiore del fusto, la quale deve essere lunga almeno 10 cm. La porzione inferiore, solitamente la più rovinata, si può lasciare interrato oppure sradicarla. Per riprodurla, quindi, si useranno i 10 cm di segmento che abbiamo tagliato dalla pianta madre, si farà un buco nella sabbia con il dito e si interreranno fino a 3-4 cm di profondità. E poi ricopriremo con la sabbia per livellare. Sarà opportuno piantarne due o tre ciuffetti insieme, nello stesso buco, però ricordatevi di piantarle non in maniera molto fitta, perché altrimenti la parte dello stelo inferiore rimarrà vuota e le foglie ingialdiranno. Quando andrete quindi a disporre le rotala nel vostro acquario, ricordatevi che in alta concentrazione di ferro, ma anche vicino alle fonti luminose, le sommità delle piante risulteranno rossastre. Può essere coltivate in acquari chiusi ed aperti. Il substrato deve essere concimato, in quanto l'apparato radicale è molto sviluppato. Va piantata in gruppi, meglio se numerosi. Le varie piantine si possono interrare a una distanza di almeno 3-4 cm fra loro e le altre piante. Richiede ovviamente molto nutrimento e l'uso di fertilizzanti sia liquidi che solidi, come il ferro chelato e il potassio. Consigliata quindi la somministrazione di CO2 e una forte illuminazione, almeno 0.5 Watt per litro. Temperatura consigliata tra 22 gradi e 28 gradi Celsius. Il pH range tra 5.5 e 7. Il GH range tra 4 e 15. La luce richiesta molta, la velocità di crescita medio alta e la difficoltà di coltivazione medio difficile. Se volete quindi inserire la rotala nel vostro acquario, vi ricordo che il prezzo al vasetto di una di queste piantine è di circa 5 euro. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Per maggiori informazioni ti rinvio al nostro sito ufficiale www.aquascapinglab.com Metti mi piace a questo video, se hai bisogno di informazioni digitali qui sotto e iscriviti al nostro canale per ulteriori novità. Grazie Grazie